ciao a tutti e come promesso eccomi con la ricetta della focaccia con lievito madre e pomodorini gli ingredienti come sempre li trovate scritti nell'info box sotto il video e nel blog e adesso vediamo come procedere ho rinfrescato il mio lievito madre nel primo pomeriggio è in forza e ben attivo ne prendo 130 grammi che mi serviranno per l'impasto della focaccia mentre 100 grammi li metto via li rinfresco per la prossima panificazione adesso setaccio la farina manitoba con 13 grammi di proteine e poi setaccio la farina zero con 10 grammi di proteine ci metto due cucchiaini di sale e mescolo bene il tutto adesso prendo i 130 grammi di lievito madre già rinfrescato e lo inserisco all'interno della planetaria spezzandolo poi ci metto l'acqua a temperatura ambiente tutta in un'unica soluzione e di seguito un cucchiaino di zucchero aziono la planetaria col gancio facendo ammorbidire il lievito madre all'interno dell'acqua la faccio andare per cinque minuti dopo cinque minuti inizio ad inserire le farine piano piano un po alla volta ne andrò a mettere intanto la prima metà e continuo a far andare la planetaria facendole integrare per circa cinque minuti dopo cinque minuti fermo la planetaria raccolgo con una spatola l'impasto che si è depositato nelle pareti del contenitore e faccio ripartire la planetaria finisco di aggiungere tutta la farina una volta inserita tutta la farina aggiungo due cucchiai di olio extravergine di oliva e continuo a far andare la planetaria per 15 minuti nel frattempo rinfresco i 100 grammi di lievito madre che mi serviranno per la prossima panificazione grazie L'impasto della focaccia è pronto, lo inserisco all'interno di un contenitore da frigo unto con dell'olio extravergine di oliva, ce lo lascio cadere all'interno e lo capovolgo in modo che sia unto da entrambe le parti, lo copro col coperchio e lo lascio rilassare per 30 minuti. Dopo 30 minuti posso fare un primo giro di pieghe, sollevo l'impasto e lo faccio passare dal lato opposto, faccio questa cosa nei quattro angoli dell'impasto, copro col coperchio e faccio rilassare per altri 30 minuti. Dopo 30 minuti faccio un altro giro di pieghe con lo stesso procedimento. lo copro, aspetto 30 minuti e faccio il terzo e ultimo giro di pieghe. Vedrete che l'impasto inizierà ad essere più tenace, più incordato. A questo punto lo lascio lievitare per tutta la notte nel forno spento. la mattina prendo l'impasto, guardate che meraviglia, come ha lievitato. prendo una teglia da forno rivestita con carta forno e ci distribuisco della semola di grano duro, poi ci lascio cadere l'impasto. metto della semola di grano duro anche sopra l'impasto ed inizio a stenderlo sulla teglia. lo stendo premendo con i polpastrelli delle dita. Se durante la stesura notate che l'impasto fa resistenza, lo coprite con un canovaccio e lo lasciate rilassare per 30 minuti. dopo aver steso l'impasto lo copro con un canovaccio pulito e lo metto nel forno spento con la luce accesa a lievitare, dovrà raddoppiare di volume. Lo faccio lievitare mettendo un pentolino di acqua calda nel forno così l'impasto rimarrà umido e lieviterà prima. ci vorranno circa due ore e mezzo, tre ore, dipende molto dalla temperatura ambiente. nel frattempo preparo i pomodorini da mettere sopra la focaccia, li taglio a fettine spesse mezzo centimetro. ed ecco la focaccia aggiunta a lievitazione, ci distribuisco sopra un filo d'olio extravergine di oliva a toscano e poi ci adagio i pomodorini su tutta la superficie. A questo punto vado a salare, ci metto un altro filo d'olio extravergine di oliva a sopra e dell'origano. adesso accendo il forno, aspetto che arrivi a temperatura e nell'attesa mi coccolo il mio lievito madre. il forno ha raggiunto la temperatura, posso infornare forno statico a 250 gradi o alla massima temperatura del vostro forno per 15 minuti. metto la teglia nel primo livello del forno partendo dal basso. trascorsi 15 minuti tolgo la teglia e la trasferisco nel livello intermedio del forno in modo che possa dorare anche sopra. ed ecco la mia focaccia pronta, guardate che meraviglia, si sente un profumino favoloso. è leggerissima, croccante, piena di bolle, alveolata. non vedo l'ora di mangiarla. spero che la focaccia con lievito madre vi sia piaciuta, a me tantissimo. vi abbraccio e alla prossima ricetta, ciao! e dietro qui Sì. Sì.